...forse recuperano sul finale, con Milano che chiude in parità, ma per tutto il giorno le preoccupazioni degli investitori per il riaccendersi della crisi nell'Eurozona con la Spagna a fare da miccia hanno tenuto sotto pressione i titoli di Stato. La differenza di rendimento tra quelli italiani e tedeschi ha toccato un massimo di 380 punti per chiudere intorno ai 370, mentre peggio va per i bonus spagnoli, il cui spread rimane sempre sopra i 400 punti e anche l'asta di titoli francesi registra rendimenti in rialzo. Per l'Italia non serve una nuova manovra, ribadisce oggi la Commissione europea, apprezzando la riforma del lavoro e augurandosi che il Parlamento la approvi presto, ma certo c'è il rischio che la recessione sia più dura del previsto, se è vero come rileva l'Oxe che già negli ultimi tre mesi dell'anno scorso il prodotto interno lordo italiano registrava un meno 0,7%, il risultato peggiore tra tutti i paesi industrializzati. Una crisi che sembra avere definitivamente intaccato lo storico punto di forza del paese, quel risparmio su cui le famiglie non riescono più a fare affidamento. La propensione a risparmiare è tornata al livello del 1995, in calo dello 0,7% dal 2010, con una pesante ripercussione anche sul potere d'acquisto, sulla possibilità cioè per una famiglia di affrontare la spesa quotidiana. Pesante bilancio anche per le imprese, i cui profitti l'anno scorso sono tornati ai minimi da ben 17 anni.